Buonasera, la classe quinta del liceo scientifico Vito Volterra vi dà pervenuto alla serata di solidarietà, momento conclusivo di un progetto umanitario promosso dalla nostra scuola già da tempo e seguito dal Don Giovanni Mosciatti. È stato lo stesso Don Giovanni a chiedere alla nostra classe di riempicare per l'occasione lo spettacolo Mandravo, tratto dall'omonima commedia di Magiavelli, un contesto adattato dalla professoressa Marce Bambozzi per la diaria di Mauro Aledì. Come molti sapranno, si tratta di uno spettacolo che abbiamo già proposto con successo lo scorso aprile, purtroppo senza alcuna replica. Abbiamo comunque accorto con entusiasmo la proposta di Don Giovanni, che ci consente di contribuire in prima persona ad un'iniziativa nobile e ormai consolidata. Sono infatti sette anni che il liceo scientifico, anche grazie alla vostra sensibilità, sostiene le adozioni a distanza in Africa, dando la possibilità di studiare a ragazzi che non ne avrebbero in mezzo. Per la realizzazione dell'evento di questa sera, ringraziamo in primo luogo e comune che ci ha concesso questo natuco di ASO e ringraziamo inoltre il corso di moda dell'Istituto di istruzione superiore Merloni Migliani, di Fabiano che ci ha concesso i costumi di scena, al parrucchiere degli ostai che ha curato le accorgiature e il trucco, a tutti i sponsor che hanno offerto il loro contributo, ovvero la ditta, la dame e luchette, ciane e costruzioni meccaniche, Zanelli Libertà, la farmacia popolare, la farmacia Tomassina a Sintestini, Ciancamera, Muiti e Marinetti Grazie e buon divertimento. Qualcuno ha visto il mio maestro? Eccola, eccola, sì, è lei la divina, una battuta divina, permette una battuta? Prego, Gagli. Che cosa ne pensi di questa nuova canzone della Mandragola? Ma, ma che versione? La Mandragola è solo la commedia dei grandi macchiaventi, quella in cui ho recitato io, Giovanni Sassino, una splendida lucrezza, e nei teati di tutto il mondo, all'Opera, al Metropolita, al Bolshoi, e per un piazza di tesoro. Ma, allora, lì perché qui, mi scusi, sa, non è venuta per la Mandragola degli studenti? Cosa? Ma, ma per chi vi avete preso? Per una canzone alla recita della barrocchia? No, no, che bella, lei è la divina. Vengo tosto dal porti per la presentazione del mio nuovo film, L'ultima numeratrice. Splendida. Non potevo che essere io. Ma, visto che qui, potrebbe dirci che cosa ne pensavi uno spettacolo fatto dai ragazzi? Bene, caro. Ci vuole coraggio a dare un passo, un macchiavento, una Mandragola, un testo così. A te, ma... Direttanti. E per giù un danorescente, ancora con un pannolone e già con il cigarrumma. Ah, 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 ah. Che temere, però. Non è vero? Ma il fondo da Mandragola, era una strada semplice. Al portare tutti. Un giovane pazzo d'amore che si prende gioco di notizia e sciocco. Che bene. Come dite voi? Ah, sì, la madre di Cretì è sempre incinta. Cretì. Le corna oramai sono patrimonio dell'umanità. Posso andare ora? Sì, sì, grazie, grazie ancora. Avete visto il mio regista? Maestro, eccomi. Beh sì, che è da stazzi giovani. Viva l'altro. Grazie. Applausi. Grazie a tutti. Siro! E vieni qui che ti devo parlare! Ma non ti sei meravigliato della nostra improvvisa partenza da Parigi? Oh, ma si! E non ti sei altro più meravigliato del fatto che ci troviamo proprio qui a Firenze? Oh, ma certo! E non ti pare strano del fatto che io non faccia niente da più di un mese? Oh, ma no! Mi meraviglierebbe il contrario! Senti Siro, se non ti ho detto quello che ti sto dicendo ora, non è che non mi fidi di te! E' che credo che solo questo sia un momento lato! E ascoltami bene, che avrò bisogno del tuo aiuto! Ma patroni, io mi sono servitore! Mi servino tempo nel regali sui pensieri dei loro patroni! Ma parlate, sono pronto ad ascoltarmi! Ma vi avrò raccontato mille volte la mia storia! All'età di dieci anni fui mandata a Parigi e lì vi ho vissuto per altri vent'anni! Oh, si lo so! Dopo la venuta di Riccardo in Italia ho ritenuto che fosse molto più sicuro restare a Parigi piuttosto che qui! Oh, certo! Ho dunque venduto tutti i miei beni a Firenze e ho vissuto a Parigi per altri dieci anni dividendo il mio tempo tra studi e piacere! Oh! Ti piaci di ricordi, studi un po' o meno! Comunque! Tempo fa capita a Parigi un certo... un certo... Camillo Campucci! Su! Questo Camillo era preso fino a casa nostra! No! Certo, sì! E capita una sera ci mettiamo a parlare sulla bellezza delle donne! Donne, donne, donne! e non metto dell'altro! E lasciami finire! Io sostenevo che non c'era niente di paragonabile alla donna francese! Questo Camillo, invece, esaltava tanto l'italiano in particolare una certa Lucrezia la moglie del... Sir... Ah! Nicia Calcucci! Ora so cosa che loro odio! Ho messo addosso tanta bramosia del vederla che la mattina seguente sono subito partito per Firenze Ed eccomi qua! Ed eccoci qua! Ed eccoci qua! Ho trovato la bellezza di mamma Lucrezia di gran luca superiore alla sua fama e il desiderio di stare con te mi fa impazzire! Ho esagerato! Sir! Che andiamo a fare? Oh! Ma chi ce l'ha? Grazie! Ma che cos'è voglio da te? Dopo un consiglio così saggio mi sento già meglio! Ma padrone! Ma come farete a fare amare da lei? Ahimè! Non lo so! Oh! E perché? Prima di tutto, lei è una donna onestissima ed è del tutto indifferente alle questioni da voi! Posta! In secondo luogo, lei è già sposata Eh, se è vero che il marito non è più giovanissimo è anche vero che non è poi così tanto vecchio! E poi, Sino, lei non esce di casa se non è accompagnata dalla madre o dal marito! Ma insomma, non c'è modo di corrumpere in alcuna maniera! Oh! Povero padrone! Ma cosa pensate di fare allora? Non lo so! So solo che al mondo non c'è niente che rilasci almeno un margine di speranza! E cos'è che mi va a sperare allora? Tre cose! Primo! Primo! È la d'appenaggine del marito! Sarà sì, dottore Lecce, ma è l'uomo più scioppo di creare! Secondo! È la voglia che hanno di avere un figlio! E poi? Si dice che la madre, la giovane, era sempre in un tazzanzino sottane! E che ci avete provato? Ma con la madre? Ma con la madre? Ma con la madre? Ma con la madre? Ma tu lo conosci di Curio? No, l'amico del Messernicia! Curio? Ora capisco perché mi riesce a entrare a mangiare da noi! Un po' di rispetto! Ve lo sono fatto amico e gli ho contestato il mio amore per la moglie del Messernicia! È rimasto talmente colpito dalle tue parole che ha anche promesso di aiutarmi! Oh ma te! Tu padrone in comini come mi danno spesso faccia! Sono le mercenari! E poi? Quali sarebbero le parole che vanno sul colpito? E io ho detto che se fosse andato tutto per il meglio gli avrei donato facendo Ducati d'oro! Ah, pepole! Cosa dovrebbe fare questo amico? Vi ha promesso di persuadere, Messernicia, che non c'è niente di meglio che una bella cura in una località fermata! Oh, capisco! C'è la lingua, è la sola! Tu non capisci niente! Tu credi a andare così, no? Non capisco proprio niente! Ma... ma che poter mi prendere? Un bel vantaggio, caro sio! Un bel vantaggio! In quei luoghi non solo ci si cura, ma ci si diverte anche! E se anche io andassi là avrei molte più possibilità di incontrarla e di intrattenermi con te! Sì! Ma senti! L'Igurio mi ha detto che l'avrebbe convinto in giornale e che questa sera ti avrebbe dato una risposta! Uh! Uh! quando mi stai uscendo di casa su mio! Sì, no! Non ti vado a nascondere! Non appena mi scarniccio se ne andrà io mi fermerò a tornare con l'Igurio! Sì! E tu intanto vai a casa che se avrà bisogno del tuo aiuto ti chiamerò! No! 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 E poi no! Ma perché? Sentiti qui! Lo so che cerchi sempre di darmi dei buoni consigli, ma questa volta sono proprio deciso a non accettare ma per quale motivo? Per il troppo disagio che ti hai! Lo sai che lasciamo al volentieri in casa mia? Inoltre ho parlato con molti medici! Uno mi dice andare alla Borreca, un altro a Montecatino, un altro ancora a San Pippo! Insomma, non si riescono neanche per loro! Già! E poi, per come siete fatto, vi dispiace neanche lasciare Firenze! Se ti sbagli! Quando ero giovane, somigliavo a un canale d'andare, sai? Non fu mai fatto a fila a Prado che io non visitassi! E ti ricordi? Sono stato anche a Pisa e a Livorno! No! E a Livorno vuole sfermare? Sì, certo! Ma va! Ed è più grande dell'anno! Perfia! Che è acqua? Due, tre... Ma che dico? Sei, sette volte più grande dell'anno! Non si vedeva che... Acqua! 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 E beh! Allora io mi meraviglio che un uomo che ha girato tanto come voi... Faccia tante storie di una cura normale! Senza contare che da quei bagnieri indigorelli potrebbe nascere qualche cosa! Ma ti sembra cosa da poco! Traslocare con tutta la casa! Ma in fondo... E si trova così tanto... Avere un bambino... Che farei qualsiasi cosa! Eh sì! Tu fai l'anello! E farti indicare una località precisa! Io, intanto... Torno da mia moglie! Avete mai visto un uomo più sciocco di lui? E uno più fortunato? Con una bella moglie, saggia, onesta... Una così potrebbe governare un regno! Eh... Ma mica è vero il detto... Chi gli fa e poi gli accoppi! Quante volte si vede un gran uomo prendersi una bestia di donna? E quante una bella intelligente prendersi un idiota? Oh! Oh! Ma ecco Calino! Che c'è chi? Calino a cosa? Stavo solo aspettando che un servizio te ne andassi! Per sapere cosa sei riuscito a combinare! Eh... E perché? Perché in quelle strazioni termani si incontrano tanti tipi di persone! E se madonna Lucrezia incontrasse un uomo più ricco e più bello di te? Di me! Non possiamo correre questo rischio! Lo trovi? Noi dobbiamo lavorare certi di riuscire! Giusto? Ma allora! Io a chi mi devo rivolgere? Io che cosa devo fare? Io devo purtroppo entrare qualcosa! E che importa se sarà rischioso e infame! Meglio morire che vivere così! Se solo io riuscissi a mangiare, a pensare, a dormire sarei più impaziente! Ma non ce la faccio! Dobbiamo fare qualcosa! E non importa se sarà rischiosa! Tanto moriremo per me! Ma non dire così! Prende i tuoi addori! E non è quello che sto facendo! Non ti sembro? Forse? Calmo! Io? E di me che io per controllarmi mi uso di speranza! Però ora è necessario fare qualcosa e non importa che cosa, purché si faccia! Sta tranquillo! Oramai so io cosa fare! E io ti credo! Anche se so che spesso quelli come te li prendono in giro gli altri! Ma non credo che li prendi in giro! Perderesti tutto quello che ti ho provesso! Infatti, io ti assicuro che se anche non ci fossero di mezzo i soldi, ti aiuterei ugualmente! Ma, ora, vediamola fresca! Pesternicia mi ha interrogato di trovare un dottore! Quel dottore sarei lui! Io? Sì, proprio tu! Dirai che studiiamo medicina e che hai esercitato a Parigi! E per rendere più verosimile la cosa, gli sparerai anche due parole da qui! Ma tutto ciò che servirà! Servirà da qua in piena pentesta! Insomma, c'è che vuoi dire! Voglio dire che se mi ascolterai la donna di che sogni sarà tua prima di domani a quest'ora! 8.012 di chi sono quando dobbiamo fare! Questo! Lo saprai quando sarà il momento! Adesso torna a casa e aspetta! Vado! Ah! E quando mi vedi arrivare come serviccia? Segue il filo dei miei discorsi e cerca di andare dietro! Farò tutto quello che vuoi!